Da qualche giorno in campagna c'è un commissario in meno, ne abbiamo di tutti i tipi e per tutti i gusti sono quelli che vengono chiamati al capezzale di organismi e istituzioni pubbliche nei quali per vari motivi la gestione ordinaria che è articolata su organi, riferimenti e figure previste dalla loro Costituzione viene soppiantata da autorità da quella appunto straordinaria attraverso la nomina di un commissario dotato di pieni poteri e di ampia autonomia di decisione e di gestione di commissari ce n'è uno in meno, dicevamo, in una istituzione mica da poco, l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Dopo 30 anni di gestione commissariale dal 31 ottobre scorso, quindi pochi giorni fa, si è tornati alla normalità. Il Presidente della Giunta regionale ha proposto e ottenuto dal Ministero della Salute la nomina a direttore generale di Antonio Limone, irpino di Mercogliano, che succede a se stesso in quanto dal 2000 ha guidato l'istituto come commissario straordinario. Limone nel frattempo è considerato una autorità nazionale della materia di cui si occupa prevenire le malattie infettive degli animali, la loro diffusione in relazione alle conseguenze patologiche che queste possono avere sull'uomo, a cominciare dagli alimenti di origine animale appunto. Bentrovati a Senti chi parla, benvenuto ad Antonio Limone. Per stare agli alimenti, insomma, abbiamo un diverso approccio, mi pare di capire. Costituzionalmente visibile. Abbastanza visibile. Non vorrei capovolgere la frittata, ma negli ultimi 16 anni di gestione commissariale l'istituto di Portici ha conquistato importanti risultati e autorevolezza. Non è che la gestione ordinaria con tutte le sue diverse articolazioni finisce per costituire un intralcio ad un percorso che sin qui ha camminato in automatico. Insomma, con i poteri commissariali la cosa ha funzionato alla perfezione. Vuoi vedere che si torna alla normalità e cominciano gli incagli? Le vicende umane, così come quelle istituzionali, sono sempre controverse, quindi lo sapremo solo vivendo. In realtà no, io sono contento che la nomina sia arrivata per una serie di motivi, ma soprattutto perché l'istituto finalmente riesce ad avere il suo organigramma, la sua struttura definitiva, entra nell'ordinarietà. E per quando io ho fatto molta fatica, devo anche ammettere che nel ruolo di un commissario c'è una sua fragilità. Fragilità che è stata superata dalla nomina direttore generale, ma legata poi anche al fatto che si insediera un consiglio di amministrazione. Ma lei per 16 anni, appunto, si consultava, decideva, eccetera. Adesso dovrà in qualche modo aprire il dibattito. Sì, ma non che i commissari poi non siano costretti ad aprire i dibattiti. Il problema vero è che io francamente ritengo che adesso quello che potrebbe cambiare in positivo è che l'ente che si stabilizza definitivamente, del resto io non mi sono tanto comportato da commissario, diciamo, non ho fatto l'ordinaria amministrazione, se no non eravamo come siamo. E l'ente, non lo dico per un autocompiacimento, ma per un dato oggettivo, certo adesso non è l'ente che ho trovato quando mi sono insediato nel 2000. L'ente, come lei ha detto, è cresciuto. Ora è ovvio che la speranza è anche quella di avvarirsi di altri contributi, di altre figure che si insedieranno istituzionalmente. E questo non è un male. Quello che potrebbe diventare un male è che non vorrei che nell'ambito di un organigramma complesso, quale quello che sta in capo agli istituti zevolofilattici, si possano creare delle pause, delle frizioni. Questo va evitato. Facciamo un attimo un passo leggermente indietro, abbastanza indietro. Come ti spieghi? Ci diamo del tu perché ci conosciamo. Da molti anni. La finzione che è anche forma di rispetto per i telespettatori, in questo caso davvero vale poco. Ci conosciamo a troppi anni. Io sono favorevole al tu. Non ci riesco. E quindi, ecco Antonio, 30 anni di commissariamento di un istituto di grande delicatezza, di grande importanza. C'entrano i giochi della politica sicuramente. Come è stato possibile che per tre decenni c'è... Diciamo a telespettatore la verità. Eh, diciamo. Proviamo a dire la verità. Innanzitutto, questa è una nomina che ha tre importanti assensi. Quello del Ministro della Salute, quello della Regione Calabria e quello della Regione Campania. La Regione Capofila, che è la Regione Campania, propone il nome del Direttore Generale. Su questo nome devono convergere con un'assenza sia la Calabria che il Ministero. Quando tu non hai, e questo è capitato spesso negli anni... Per 30 anni non si è schiodato sto... Quando tu non hai un momento istituzionale condiviso, condivisibile, poi è anche vero che è un po' colpa mia, indirettamente. Perché poiché l'ente funzionava, diciamo che io forse non rientravo nelle priorità delle istituzioni che se ne dovevano occupare. Tra l'altro è anche un po' vero che questi istituti pure hanno risentito di una storica carenza normativa che pure recentemente, piuttosto recentemente, circa due anni fa, si è riorganizzata con una legge quadro che è la 106, che è una legge specifica per gli istituti sopravviattici. Perché gli istituti non sono ASL e non sono altro, sono quello che sono da una norma ben precisa. Sono dieci in Italia. È una storia tutta propria degli enti. Tutta propria degli enti. Che è un ente di prevenzione. È una storia anche tutta italiana, perché se non c'è il concerto di chi deve darlo e non si trova, diciamo così, una concordia, un istituto importante resta commissariato per 30 anni. Per fortuna è andata bene, possiamo dire. Ma credo che, insomma, su questo la regione... Ma voglio dire, poteva anche essere accoppato e definitivamente seppellito, poteva andare anche così. Ma comunque non è andata così e il commissariamento è roba del passato. Tu hai ricordato, appunto, che l'istituto ha competenze su due regioni, Campania e Calabria. 400 dipendenti, 4 milioni di esami l'anno. Ecco, come si articola, come monitora, come interviene l'istituto su un territorio di competenza che ha quasi 8 milioni di abitanti? Beh, sicuramente le nostre competenze riguardano aspetti importanti della medicina di prevenzione. L'ente è un ente sanitario di diritto pubblico, sostanzialmente. Quindi noi tuteliamo ogni giorno a tavola quello che il cittadino mangia. Noi siamo il commensale discreto che ogni giorno controlla questo. A questo bisogna aggiungere il nostro compito sulla profilassi di Stato, cioè tutti i servizi veterinari competenti per territorio fanno dei prelievi agli animali di sangue per controllare la diffusione delle malattie infettive, quindi la brucellosi, la leucosi. E questi sono elementi che sono in capo a noi per la profilassi di Stato. A questo va aggiunta la ricerca. Noi siamo un momento importante di ricerca perché la diagnostica, quando è fatta sul campo, se non si avvale di ricerca non si potenzia. Bisognava dare gli strumenti ai laboratori per fare questo lavoro. Quindi noi facciamo un importante lavoro di ricerca anche con altre strutture, con le università, con altri istituti, con centri a carattere scientifico, il CNR, l'Enea. Noi abbiamo un sacco di progetti con molti enti scientifici che insieme a noi svolgono delle funzioni. Parleremo tra poco delle emergenze che sembrano essere state abbondantemente superate, la brucellosi, la diossina con le mozzarella, la terra dei fuochi. Ma intanto oggi qual è il settore che, non dico che è a rischio, ma insomma sul quale il settore diciamo così alimentare, proveniente da prodotti animali che andrebbe e viene magari costantemente monitorato? Qual è l'attenzione? Il vero binomio del terzo millennio che stiamo declinando non senza difficoltà e che ha modificato anche l'approccio che avevamo nel passato è il ambiente salute. Abbiamo capito che se vuoi davvero controllare la salute devi partire dall'ambiente che contiene quei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole e che riescono a fare in modo che la nostra salute sia salvaguardata. Aria, terra, suolo. Noi abbiamo fatto un lavoro così, non è solamente i quattro elementi fondamentali aristotelici rappresentano di più. Perché? Perché noi abbiamo avuto un approccio di questo tipo, dovevamo dare rispetto alla terra dei fuoghe delle risposte, non lo potevamo fare né abbinandoci ai negazionisti né pensando di fare gli urlatori. Dovevamo fare un lavoro scientifico perché si addice ciò a un ente a carattere scientifico, quale è l'istituto. E quindi abbiamo fatto campagna trasparente. Grazie alla Regione Campania, giova a dirlo, De Luca non si era nemmeno insediato al Presidente della Regione che veniva in istituto a promuovere questa azione, gli va dato atto. E noi facemmo un lavoro importante, cominciamo a fare un campionamento minuzioso di questi elementi fondamentali, quindi acqua, faldi acquifere superficiali e profonde, il terreno, bottom soil, top soil, l'aria, quei deposimetri e poi le produzioni vegetali e animali. Quindi noi abbiamo analizzato di tutto, abbiamo analizzato le api, il miele, i gasteropodi, persino le lumache. Mi pare che le api e le lumache siano come dire due sentinelle che forniscono importanti notizie. Assolutamente, come pure il fegato e le milze di cinghiali. Ricordiamo un po' le notizie che provengono dalle api e dalle lumache. Allora, quello che abbiamo trovato sostanzialmente è che abbiamo una presenza sicuramente certo di pesticidi, ma tutta questa storia di una contaminazione che poteva compromettere l'alimentazione campana, quella che arriva dalla Campania, perché poi sulle nostre tavole va detto non è che arriva il cibo campano, magari arrivasse solo un cibo campano. Non era a rischio. Il cibo in Campania è innocente e noi abbiamo 20.000 prove di esami che lo testano, che lo testimoniano. Questa attività è stata molto importante, l'abbiamo portata a Expo l'anno scorso, la stiamo mettendo in piedi anche con ulteriori esami che rafforzano questo convincimento, noi abbiamo dati scientifici che ci fanno dire queste cose. Questo non significa che non ci sono le critici ambientali, che sono ben delimitate in alcune aree, che abbiamo ben circoscritto, ma da queste aree non arriva cibo che finisce sulle tavole. Storia diversa si sta sviluppando rispetto all'aria, adesso abbiamo un lavoro fondamentale che si ama spesso, lo voglio brevemente accennare. con questa cosa del sangue, poi ci torniamo un attimo dopo. Manteniamoci anche su un terreno di una curiosità non banale, ma per esempio, davvero risponde al vero il fatto che quando spariranno le api il mondo avrà sei mesi di vita? Io credo proprio di sì, io penso che l'affermazione bellissima... Mi pare di Einstein se non sbaglio, di chi? Di Einstein che dopo la fine delle api all'uomo resteranno solo pochi anni di vita, credo sia assolutamente vero. Non c'è un animale che riesce a darci un biomonitoraggio da sentinella più attenta, più scrupolosa. Le api sono capaci di darti molte risposte, il contaminante nell'ambiente lo leggi e quando alcuni sciami cominciano ad avere alcune malattie, tu sicuramente puoi capire che questo effetto è di una condizione ambientale. Le api sono straordinarie da questo punto di vista. Come anche le pecore, che venivano utilizzate nel Medioevo, per capire... Il nostro simbolo, voglio dire. Beh, noi siamo in fondo un popolo che ha fatto della pastorizia tradizionale. Abbiamo le razze, no? La latigauda, che è una delle migliori razze di pecore italiane e avellinese. Va bene, quindi il problema però, vorremmo precisare, ma non ce n'è bisogno, perché il problema non è accudire le api, è accudire il mondo. Assolutamente. Le emergenze superate e anche una terza, quella della terra dei foghi, che ha fatto il giro del mondo, la brucellosi che è, insomma, si può dire finita intorno al 2007-2008, la diossina che nel 2008 sta per dare una terribile mazzata all'economia della campagna, all'economia caseale. Una cosa che ti voglio raccontare, una riunione al Ministero della Salute in cui da Bruxelles al Comitato Veterinale di Bruxelles arrivava una notizia in francese che bisognava chiudere tu le formagerie. Tutti i caseifici della campagna. Rispetto a questa affermazione, io chiedi la pausa. Cina e Giappone bloccarono le importazioni. Sì, Corea e Giappone bloccarono le frontiere. A quel punto noi non avevamo molte scelte. E grazie a Orsa, questo organismo che abbiamo in istituto, questo osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare, in 15 giorni noi facemmo una valutazione degli esami di tutti i latte di massa. Con un vantaggio in più che oggi abbiamo e allora non avevamo, che era il laboratorio per le diossine, perché nel frattempo noi l'abbiamo poi realizzato. Quindi la regione Campania fa 300 esami all'anno sulle diossine, che è la regione che ne fa di più in Italia. E ci siamo anche muniti di un laboratorio per fare queste analisi che hanno un loro costo. Quindi risparmiamo tenendo noi il laboratorio. Sulle mozzarella alla diossina l'allarme venne lanciato dal fatto che la diossina venne riscontrata su due campioni di latte e su due prelevati. Prima nel 2002 e poi nel 2008. Ma ci possono essere anche interessi, strategie transnazionali, guerre commerciali? Quelle le ho lette dopo. Questo qui fu solo un caso. Il Piano Nazionale Residui che dettava l'obbligatorietà di effettuare due campioni di latte è proposto dal Ministero della Salute per tutte le regioni. Noi all'epoca facevamo solo due esami sulle diossine, quindi vedete come i riflettori poi sono accesi in modo molto più pesante. E questi due campioni risultarono entrambi positivi alle diossine, quindi pensate all'allarme che ne venne fuori. Poi ci ho visto le speculazioni e il pregiudizio. Ho visto la TV francese, ho visto per esempio una TV francese molto attenta ai nostri quali. Loro hanno i loro formaggi, ho visto poi tutto un mondo che aveva una reazione a seconda degli interessi. Ma andare a far passare la mossa... Dovrebbero essere forse i protocolli europei e internazionali un po' più rigidi, più certi per impedire che pezzi di economia saltino rispetto, diciamo così, a un allarme legittimo ma sostanzialmente poi ingiustificato. Non c'è sempre stato uno stesso trattamento di Bruxelles. Tu si ricorderai la storia per esempio del salmone alla diossina. E come no. Allora nel mare del nord hanno fatto una cosa diversa, hanno alzato la soglia, perché quella è una raccomandazione. Nei confronti della Campania ci fu il braccio di ferro e questo alla fine ci convince. E noi ci siamo salvati perché i nostri dati sulla diossina non erano così gravi. Noi avevamo una presenza di diossina che non dava dei valori molto alti. Quindi riuscimmo a ridimensionare il fenomeno. Ma non è andata sempre così. Gli interessi commerciali spesso prevalgono. Prevalgono. Anche sulla terra dei fuochi. Le preoccupazioni, gli allarmi sui prodotti della terra di quella terra sembrano superati. Restano le domande sulle malattie tumorali che vengono contratte in quell'area. Ecco, state portando avanti un progetto che stiamo a spesso. Questo progetto è uno studio di esposizione sulla popolazione suscettibile. Che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di stabilire qual è il nesso di correlazione tra l'ambiente della salute. Attraverso, avendo un dato ambientale, proprio perché sappiamo quanto contaminante c'è nell'ambiente grazie ai 20.000 dati che poi letti nella loro complessità arrivano quasi a 100.000. Quindi basta prendere il deposimetro dell'aria, devi fare tanti esami, oppure devi fare tanti altri esami su molti valori. Noi facciamo per esempio sul terreno 52 elementi, perché il nostro è un terreno vulcanico, non basterebbe fare solo quelli normati. Per fare solo un esempio, noi arriviamo a stabilire qual è un dato ambientale. Rispetto al dato ambientale sappiamo qual è la criticità di un certo territorio. Per cui abbiamo diviso i comuni in medio, basso e alto impatto e abbiamo selezionato una popolazione che doveva avere determinati requisiti, soprattutto non doveva avere già malattie di sue, quindi è una popolazione sana. Altrimenti la tua lettura, che è una lettura statisticamente che deve stare in piedi, era falsata. Quindi alla popolazione che si è resa disponibile, gli abbiamo fatto un questionario, abbiamo cercato di capire gli stili di vita di ognuno, di quelle persone che si offrivano per farci fare questo prelievo di sangue. Dopo che avevano superato questo questionario, che poi stiamo facendo insieme al Pascale, noi per fare tutto questo lavoro ci siamo avvalsi della Federico II, del CNR, dell'Enea, di molti istituti di ricerca, anche internazionali che dovevano servire anche a darci un contributo importante scientifico per non fare errori, perché siamo stati pionieri su questo terreno e lo stiamo conducendo con grande scrupolo e con grande attenzione. Stabiliremo qual è il nesso di correlazione tra l'ambiente e la salute facendo proprio capire quale potrebbe essere la migrazione di un contaminante dall'ambiente verso l'uomo attraverso la lettura di biomarcatori di esposizione e di effetto per capire se ci sono delle modifiche del genoma cellulare delle persone alle quali abbiamo prelevato il sangue. La lettura di questo dato ci fa capire qual è il nesso di correlazione tra un contaminante ambientale e le modifiche cellulari delle persone per capire se è vero che in campagna si muore di più, se è vero che noi siamo più esposti a delle malattie. Questo protocollo Spess troverebbe un'applicazione anche per le preoccupazioni, le perplessità nella Valle del Sabato. Ci sono tre grandi criticità che noi stiamo affrontando con una renda di ingrandimento maggiore rispetto al lavoro complessivo di Spess. Una è quella sicura della Valle del Sabato, l'altro è del bacino idrografico del fiume Sarno, quindi Solofrana, Montorese, dove certe da cloroetilene nelle acque destra una preoccupazione. E il terzo è la Valle dell'Irno, dove c'è la vicenda delle fonderie Pisano. Proprio ieri la Regione ha sdoganato ancora di più questa questione di questa attività in questo territorio, quindi noi su questi punti di maggiore criticità abbiamo focalizzato di più e maggiormente la nostra attenzione e il nostro interesse. L'approccio dell'Istituto, naturalmente, lo sottolineavi all'inizio, non è quello di di mettersi dalla parte degli urlatori né tantomeno mettersi dalla parte di chi sottovaluta eventuali fenomeni che invece vanno approfonditi. Resta una sorta di preoccupazione legittima, ma anche una sorta di angoscia non sempre spiegata e spiegabile da parte dei cittadini, dell'opinione pubblica di queste comunità. Come lanciare un messaggio non inutilmente rassicurante, ma insomma... Ma tu che sei un giornalista di lungo corso, anche bravo e capace, non ho bisogno di aludarti in pubblico perché insomma l'Irpinia lo sa. La verità qual è? Ma anche molta stampa ha contribuito. Pensa ai titoli. Il virus del pollo, quando era il tempo dell'influenza avviare, il pollo, il virus non l'aveva mai preso perché era rimasto nelle specie selvatiche. Una mozzarella su tre contiene diossine, non era vero. Le bufale, in questo caso le bufale erano di altra natura. Allora se noi facciamo terrorismo ogni volta che affrontiamo questo argomento, noi il consumatore lo dobbiamo tranquillizzare con dati. Secondo me deve cambiare l'approccio, non possiamo raccontare rabbonimenti, noi dobbiamo raccontare la verità. E la verità è che il cibo in sé costituisce anche un rischio, però lo dobbiamo spiegare qual è. Un rimedio fondamentale per garantire il consumatore resta la tracciabilità. Quindi se una persona vuole avere consapevolezza di ciò che mangia deve capire qual è la storia di quel cibo e come gli è arrivato sulla tavola e nel piatto. Per farlo deve acquisire una tracciabilità ed è quello che abbiamo fatto con la mozzarella di bufala perché è giova a ricordare che con un decreto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura noi abbiamo in capo all'Istituto la tracciabilità della mozzarella di bufala non solo campana ma italiana, quindi noi sapremo quanto latte si fa, chi lo lavora, quanta mozzarella si produce. Questo ha stabilizzato il prezzo del latte. La tracciabilità ci ha consegnato tre dati importanti. Abbiamo garantito il consumatore con un latte di qualità che è quello che deriva dalle nostre aree ali e non quello che veniva nelle triangolazioni spesso a sopperire col prezzo più basso dalla Romania o altrove. Quindi abbiamo stabilizzato il prezzo delle persone, degli allevatori che non hanno più latte a terra e abbiamo un prodotto di quanta qualità. La mozzarella di bufala oggi è tracciata. E questo deve valere per tutti gli altri alimenti. Devo sapere chi lo fa, da dove viene, perché questo significa garantire un prodotto. In Campania, benché quando ci sono appunto cronache spesso interessate, spesso caricate di inappropriatezza divulgativa, oltre che di dati certi. Paradossalmente in Campania abbiamo le maggiori garanzie sugli alimenti rispetto ad altre regioni d'Italia, perché il lavoro dell'Istituto Profilattico... Il nostro sistema di controlli funziona. E complessivamente in Italia va bene comunque il sistema di controlli. È il sistema di controlli. La rete di epidemia sorveglianza, che in Italia non è scadente. La rete di epidemia sorveglianza è in piedi. Poi abbiamo le false informazioni, no? Pensa a tutta la storia che si fa sul Tè Verde. Quale? Quello che fanno nel Sì. Nel Sì. Devo, devo... Ho capito. Sul Tè Verde... Quei pesticidi. Sì. Quei pesticidi dentro. Oppure tutto quello che si produce in paesi che sono fuori da leggi della comunità europea. Hanno norme diverse. Quindi il consumatore da queste cose, come si tutela? Pensa anche al mio lavoro di tracciabilità come istituto. Quando posso passare dal campo alla tavola, una garanzia ce l'ho, perché il campo ce l'ho portata di mano. Ma quando il campo è assai con... Uno degli ultimi... me la gioco sugli analiti e quindi divento più scadente la mia... Antonio, parlami dell'olio di palma, perché ormai è diventato un tormentone. Ma anche questo olio di palma è eccessivamente criminalizzato. Cioè adesso, cioè noi... Contribuisci ad accrescere le preoccupazioni, oltre che la disinformazione, perché numerose case produttive di alimenti che prevederebbero, prevedono anche elementi come l'olio di palma, beh si sono premuniti e premurati di avvertire che non contiene olio di palma, ma insomma ci siamo avvelenati da una vita che... Perché insegniamo le mode, no? Perché funziona che oggi dobbiamo criminalizzare la carne rossa. Come sta messa la situazione? Dobbiamo dire che la carne rossa non si deve mangiare, dicendo anche spesso falsa informazione. Abbiamo criminalizzato lo zucchero, quello raffinato, abbiamo criminalizzato le farine, se è doppio zero. Io capisco tutto. Allora cominciamo a dire che noi un modello alimentare di riferimento lo abbiamo solidissimo e validissimo, che è la dieta mediterranea. Ma la dieta mediterranea era abbinabile ad una popolazione dell'immediato dopoguerra che aveva nella propria, come dire, prerogativa uno stile di vita diverso. Quindi ti dico quello che nego a me stesso. Movimento, proteine quando ci volevano, soprattutto frutta, verdura, gran parte del principio proteico-alimentare doveva derivare dal pesce, una dieta mediterranea che avesse un equilibrio si deve abbinare anche ad uno stile di vita, altrimenti la dieta è da sola. Ma io te lo dico innanzitutto cercando di insegnarlo a me, facendo un'auto-ammenda. E questo secondo me ha senso, ma la verità è che l'alimentazione più è valida quando più è varia. Varia. E deve essere quello il criterio. E l'olio di palma come la mettiamo questa cosa? No, troppo criminalizzato e non ci sono tutte queste prove. Cioè quando è che fa male l'olio di palma? Ma come tutte le cose quando si accede? E quindi il punto è che in una catena industriale dove se tu non ti vuoi fare biscotti ci sia l'olio di palma, ma non è un'attività criminale perché nelle giuste doti è normale e non danneggia la salute. Cosa diversa è se uno immagina che poi il resto dell'alimentazione se la deve bilanciare anche su altre cose. Ma è il villaggio globale che oggi a tavola ti porta il cibo. quindi tu devi fare attenzione su 100 fattori. Il pesce spesso arriva congelato in container dal sud-est asiatico, dove a farla da padrone negli impianti di acquacoltura ci sono gli antibiotici. Le farine del pane spesso attraversano i mari nelle stive delle navi dove spesso ci sono aflatossine. Quindi noi dovremmo rivedere tutto questo criterio. Ma se noi proteggiamo anche un po' di più la nostra agricoltura, i nostri prodotti tipici li valorizziamo e li controlliamo, possiamo anche immaginare senza un protezionismo eccessivo che sarebbe ridicolo oggi nel mondo globale che viviamo. E' abbastanza impossibile da praticare. Ma noi potremmo cominciare a privilegiare alcune produzioni. Però se a questo noi vogliamo dare retichetta alla regione campana di un territorio fatto sulla terra dei fuochi, non è più così, non è così. E' un pregiudizio, è una falsità. Noi abbiamo una regione con grandi preribatezze. I caciocavalli del mondo vicentino, il carmasciano nostro erpino, grandi vini, grandi formaggi, grandi prodotti, non possiamo passare per una terra dei naturi. Come lo stai dicendo, mi stai facendo ingrassare immediatamente. Diciamo che da questo punto di vista io ho una naturale indulgenza verso il cibo. No, no, mi farebbe piacere anche a me essere così indulgente. Tu te lo puoi permettere. Un'ultima cosa, Antonio. Che cosa ti riuscirà di fare da direttore generale che non ti è riuscito da commissario straordinario e viceversa? Cosa non farai o non potrai fare da direttore generale che invece come commissario straordinario ti era più facile fare? Ma a prescindere dai ruoli ti dico che cos'è che vorrei fare davvero se mi riesci. Il mio grande obiettivo, la mia aspirazione vera, che poi si realizzerà solo grazie al contributo di tutti quelli che hanno tirato la carretta insieme a me, i giovani ricercatori capacissimi, l'istituto e tutti i propri dipendenti ma anche quelli nuovi che arriveranno, è quella di costruire un modello perché dopo la crisi in Campania, la crisi che riguardava la terra dei fuori, noi abbiamo costruito un modello. Campania trasparente, QR code per la qualità del cibo con il codice che mettavamo sulle confezioni per dire al consumatore che si apriva la schermata sullo smartphone per leggere quegli esami che avevamo fatto, quindi non chiacchino ma gli esami effettuati. Spes, tutto questo è un modello, è un pacchetto che declina questo binomio Ambiente e Salute. Noi possiamo fare di questa attività un modello esportabile. Ilva, Caffaro, Brescia, Marghera, quindi prendere questo modello che abbiamo costruito in Campania e noi abbiamo chiesto un centro di referenza al Ministero della Salute che pare possa decollare per arrivare a costruire un modello che dalla Campania anche altrove riesce a costruire una sorta di salvaguardia del cittadino consumatore, garantire le produzioni in un'attività di monitoraggio costante con un'azione integrata di sistema. Bene, grazie ad Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, avremo modo di seguire il suo lavoro e quello dell'Istituto, un lavoro estremamente delicato, estremamente importante, estremamente strategico anche per la nostra salute sicuramente, ma non solo, anche per la nostra economia, l'economia del Mezzogiorno, l'economia della Campania che può puntare, come fa, punta molto sui suoi prodotti di eccellenza, quindi il ruolo dell'Istituto da questo punto di vista è estremamente importante. Io ti ringrazio tanto di essere stato ospite a Senti Chi Parla, ci sentiamo adesso con Senti Chi Parla la prossima settimana, lunedì praticamente, nella prossima settimana. Nel frattempo buone giornate a tutti per questo fine settimana, buon fine settimana a Antonio Limone e grazie per averci seguito, arrivederci. Senti Chi Parla